La lista regionale che stiamo preparando è una lista di persone fresche con tanta voglia di cambiare anche la regione. Stiamo cambiando il Comune di Bari, io ho lottato affinché si placassero gli animi degli oppositori interni contro De Caro. Per assurdo sono stato io che ho dovuto prendere le sue difese. Facciamolo lavorare e insieme con Vito Lacoppola siamo qua per avere un governo della città stabile. Noi vogliamo una Bari che cambia e dobbiamo lavorare per una regione che cambia perché anche lì dopo dieci anni di governo di vendola fatti bene con un vendola protagonista però un cambiamento serve, serve sempre nella vita.